Chiara, dove vai? Da intervistatrice a intervistata stasera, al Papillon Story succede anche di questo. Buonasera Chiara. Buonasera. Cosa si prova a essere una delle organizzatrici fondamentali di una serata così importante? Intanto è un onore, perché organizzare una serata importante rende solo fieri, specialmente quando risulta bene in questo modo, perché stasera è stato un bel successo. Quindi che ti dico? Ti dico che il cuore è pieno di emozione, la testa corre, corre, corre. È già pronta a organizzare la prossima volta il 12 dicembre, perché te l'hanno detto, no, il 12 dicembre. Ho saputo qualcosa, sì, e saremo molto lieti di essere con voi. Anche perché per farti gli auguri, dal 12 al 25 dicembre c'è talmente pochino, bisogna riunirsi, darsi un bel bacio e poi tutto va da sé. Col Papino Story, Never Ending Story, tutto va veramente da sé sulle ali della farfalla. Grazie mille Chiara, buona serata. Grazie a voi, grazie a te. Ciao.